Radio Radicale, siamo con l'On. Tassinari di Forza Italia, membro del Comitato della Camera dei Deputati sull'intelligenza artificiale, per parlare del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che è stato votato ieri dal Parlamento europeo. Adesso bisognerà attendere il via libera del Consiglio europeo e far valutare l'impatto della norma ai linguisti dell'Unione europea perché dovrà essere tradotto poi in tutte le lingue e vedere se esistono dei problemi di interpretazione. Allora, è stata presentata come una normativa rivoluzionaria, volevo chiederle se lei è d'accordo e se pensa che eviterà qualche problema anche in vista delle elezioni europee. Sì, sono convinta che un atto regolamentativo dell'Europa fosse opportuno e necessario in questo momento perché l'intelligenza artificiale è una grande opportunità per tutti ma comunque va regolamentata sotto il profilo di evitare abusi o comunque conseguenze che possono essere negative sulla popolazione. Quindi sono molto d'accordo con questo intervento perché non credo che quello che succede negli Stati Uniti dove c'è una sorta di autoregolamentazione sia centrato. Viceversa il regolamento europeo si è posto proprio nella logica di tutelare le persone sui diritti come ad esempio l'utilizzo del riconoscimento facciale, il riconoscimento delle emozioni. Ecco, credo che su questo fronte dobbiamo assolutamente essere tutti consapevoli che ci potrebbero essere degli abusi così come anche la necessità di marcare quello che è prodotto dell'intelligenza artificiale rispetto al prodotto dell'ingegno umano anche per una tutela del diritto d'autore e di quella che è la produzione che nel tempo si è costituita. Quindi l'abbiamo visto anche recentemente con il caso in Inghilterra dei Reali dove sicuramente c'è stato un intervento secondo me dell'intelligenza artificiale sulla fotografia. Quindi è necessario rendere... Sì, perché dal viaggio degli Stati Uniti c'è stato detto che quando c'è una manipolazione delle immagini da parte dell'intelligenza artificiale soprattutto le mani non riescono mai a rendere in maniera concreta e danno insomma delle imperfezioni in questo caso sull'immagine se si valutano soprattutto le mani ad avere delle situazioni insomma che davano un'irrealtà fondamentalmente. Quindi dobbiamo fare tanta attenzione a questo nell'ottica anche delle elezioni perché ovviamente è un attimo manipolare anche solamente il discorso che può fare un candidato mettendo parole alla persona che magari non sono state insomma espresse veramente ed è difficilissimo riconoscere cosa è vero e cosa invece è manipolato. Quindi sono assolutamente favorevole. So tra l'altro la Premier Meloni ha dichiarato proprio ieri che ci sarà un grosso investimento ci sarà anche un disegno di legge che verrà proposto dal governo. Quindi lo valuteremo e sono convinta che questa sia la strada giusta. È una questione di sicurezza nazionale? Assolutamente sì. Questo però non significa perdere quelli che sono i benefici dell'intelligenza artificiale perché chiaramente sappiamo che è un salto dal punto di vista tecnologico importantissimo può portare tanto all'uomo eliminando magari anche quelle attività occupazionali che sono molto ripetitive però sempre nell'ottica di dare centralità all'uomo quindi in una logica di questo genere. L'ultima domanda, pensa che frenerà lo strapotere dei giganti del web, Google, dei social che forse hanno utilizzato quell'intelligenza artificiale anche per fini forse commerciali? No, è chiaro che le prese, le aziende e i maggiori player in questo ambito hanno una finalità prevalentemente commerciale a parte OpenAI però ha fatto una grande partnership con Microsoft quindi fondamentalmente dobbiamo cercare di ricondurlo anche ad una logica etica ecco ben venga assolutamente la ricerca, lo sviluppo l'Europa dovrebbe insomma in questo senso cercare di incentivare la ricerca e lo sviluppo perché altrimenti siamo al traino degli Stati Uniti e questo va bene fino a un certo punto quindi anche un investimento su questi temi aiutare chi in Europa opera su questo argomento è sicuramente importante per un bilanciamento Bene, la ringrazio, ringrazio all'onorevole Tassinari di Forza Italia membro del Comitato della Camera dei Diputati sull'intelligenza artificiale con la quale abbiamo parlato del voto del Parlamento europeo sulla nuova normativa che riguarda l'intelligenza artificiale la prima grande legge nel mondo grazie